Ciao a tutti, buon pomeriggio e buon lunedì, buon inizio settimana. Oggi siamo qui per fare un video un po' particolare perché parleremo del personaggio di Dago e voglio realizzare insomma un video molto veloce, così molto informale, per mettervi un po' al corrente della situazione per quanto mi riguarda Dago. Perché io ho letto questo albo, il numero 67 della nuova ristampa, albo che io ho trovato qualche tempo fa al mercatino dell'usato come potete vedere quindi non l'ho comprato nuovo in edicola, questo in realtà non è neanche un numero recente ma il numero del gennaio 2021 per cui ha già qualche mese dalla sua uscita e volevo farvi un video riguardante proprio questo albo nello specifico ma mi sono accorto che non ho le competenze per poterlo fare perché la storia che ho letto qui dentro era già iniziata in alcuni volumi precedenti per cui io ho quasi capito zero ecco di questa storia, avrei dovuto iniziarla a leggere dal principio quindi non avrebbe molto senso un mio video specificatamente riguardante questo numero, questo albo di Dago e quindi ho colto un po' l'occasione per parlarvi in maniera un po' più dettagliata delle mie decisioni riguardanti il personaggio e per farvi un po' una panoramica iniziale su questa determinata collana di cui qui finora non avevamo scusate mai parlato questo perché tutti i video che io ho realizzato qui sul canale insomma in questi giorni relativi il personaggio di Dago si sono questi giorni, questi mesi relativi il personaggio di Dago si sono sempre concentrati unicamente sull'inedito, sulla serie inedita che tutti i mesi esce in edicola al prezzo di 3,50€, 98 pagine bianco e nero formato bonellide ovviamente una collana che propone storie inedite quindi storie nuove riguardanti il personaggio di Dago, in cui Robin Wood, ovvero il creatore del personaggio non è più attivo su questa collana e quindi si alternano vari sceneggiatori che in qualche modo ne ripercorrono le orme, ad esempio Ray Collins che era lo sceneggiatore di questo numero e dei precedenti ma anche Luciano Saracino il cui successivo numero sarebbe stato da lui curato in realtà questo numero lo trovate tuttora in edicola ma io non l'ho comprato perché ho deciso di interrompere questa serie non giudicandola insomma di chissà quale qualità ecco, permettetemi il giudizio un po' negativo questo perché le storie mi sono sempre apparse come troppo ingarbugliate troppo incasinate di difficile comprensione, se devo essere sincero e anche i disegni, insomma, i disegni qui in realtà ci sono dei bei disegni perché il disegnatore di quest'albo è Gustavo De Feo che non era affatto male infatti queste pagine me le ricordo come interessanti ma in linea di massima, secondo me il livello dei disegni di questi albi di questa testata, almeno per quei pochi numeri che io ho seguito non era esaltante e quindi ho deciso di stopparla poi magari in futuro, se mi capiterà di trovare qualche albo nei vari mercatini perché no, lo prenderò però in linea di massima non mi aveva affatto soddisfatto per cui, incuriosito anche dai suggerimenti che molti di voi mi avevano dato ho iniziato appunto a recuperare questa nuova ristampa che altro non sarebbe che l'ennesima riproposizione stavolta a colori ma dei colori e dei disegni ne parliamo fra un attimo delle primissime avventure riguardanti il personaggio di Dago se infatti ho ben capito, qui vengono riproposte le prime storie sceneggiate da Robin Wood ovvero il creatore di Dago e disegnate da Carlos Gomez che è stato uno, ma forse il scusate l'aereo che passa ma forse il disegnatore più importante attivo su Dago forse l'artista più rappresentativo ecco, per questo grande personaggio questo numero, come vi dicevo prima l'ho recuperato nei mercatini ma i successivi numeri li ho tutti comprati in edicola quindi infatti qui abbiamo il numero 68 che è il successivo viaggio all'inferno abbiamo il numero 69 l'oro e il buio questi numeri io non li ho ancora letti ma lo farò molto probabilmente appena avrò tempo e il numero 70 il regno di Pizzarro fra pochi giorni uscirà il numero 71 in edicola dal 28 maggio che sarà oltre ogni limite con questa copertina veramente molto bella che sa di libertà, sa di natura, sa di tante cose trasmette veramente belle impressioni ecco, questa copertina come tutte le copertine di questa nuova ristampa che sono ad opera di Vincenzo Mercogliano a me devo dire che piacciono soprattutto per quanto riguarda la colorazione che però non è ad opera di Mercogliano bensì di Andrea Vannozzi sono sicuramente copertine non originali quindi sono copertine credo realizzate correggetemi se sbaglio appositamente per questa testata perché hanno un taglio molto più moderno uno stile secondo me sono anche fatte in digitale però mi piacciono mi piace molto la colorazione più che altro di queste copertine secondo me rende bene quelli che sono i paesaggi o insomma gli sfondi che vengono qui rappresentati forse questa non mi convince più di tanto come copertina più che altro perché non c'è un non c'è un un'ambientazione ecco qui potete vedere la giungla invece qua ci sono solo dei volti sembra un po' una una locandina cinematografica questa questa copertina per certi versi ecco vista in quest'ottica non è affatto malvagia neppure questa ad ogni modo io vi consiglierei ma sono l'ennesimo che ve la consiglia in realtà vi consiglierei a mia volta perché mi è stata consigliata e quindi io a mia volta la consiglio questa nuova ristampa a colori per fondamentalmente tre motivi il primo l'abbiamo già spiegato qui ci sono le prime storie nonché quelle più importanti quelle più fondamentali più decisive per il personaggio di Dago ora io non so a che anni appartengano queste storie però io credo che il personaggio di Dago sia stato creato intorno all'82 all'83 quindi io non so ma se fossero veramente le primissime storie del personaggio vorrebbe dire che hanno quasi circa 40 anni adesso non lo so di che anni siano queste storie però sicuramente non sono recenti ecco ma sono le più importanti le più fondamentali appunto per conoscere questo personaggio quindi questa è il primo la prima motivazione la seconda motivazione è la presenza di questi interessanti approfondimenti che vediamo che vediamo sempre a modo di introduzione dei vari albi sono curati da Livio Lorenz Livio Lorenzoni Livio Lorenzoni era un attore era un caratterista del cinema italiano questo è Luca Lorenzoni ecco Luca Lorenzoni che cura gli approfondimenti che sempre fungono da introduzione a questi albi sono sei pagine di approfondimenti che ci offrono secondo me un utilissimo contesto storico diciamo un utilissima panoramica su l'epoca ecco in questione perché Dago si muove nel Cinquecento per cui e molto spesso entra in contatto con dei personaggi storici dell'epoca qui ad esempio in questo albo compare addirittura Carlo V con cui Dago ha un rapporto estremamente particolare questo è Carlo V come potete vedere magnificamente raffigurato da Carlos Gomez e diciamo che serve un'introduzione per delle storie del genere perché ovviamente non tutti hanno una preparazione storica adatta per comprendere immediatamente le dinamiche che vengono narrate io non mi ricordo neanche se queste se queste insomma se queste dinamiche se queste sì se queste nozioni ecco le ho studiate o meno quando andavo a scuola ammesso che io studiassi quando andavo a scuola per cui insomma diciamo che un riassunto ecco è più che utile non tutti si ricordano in maniera precisa queste queste dinamiche qui per esempio si fa riferimento al fratello minore di Carlo V tale Fernando Dasburgo che nacque nel 503 figlio di Filippo il Bello di Giovanna la Pazza Giovanna la Pazza che poi verrà citata in questa storia e insomma c'è tutta una c'è tutta la storia di Fernando degli stati insomma dei regni su cui lui ha esercitato il suo potere e ci viene un po' sì un po' spiegato ecco ci viene un po' introdotto quello che andremo a leggere ed è un qualcosa di molto utile che nell'inedito non c'è nell'inedito molte volte si fanno dei riferimenti alla storia per esempio non mi ricordo se in questa storia no però si era parlato della Turchia si era parlato di qualche stato del genere nel precedente numero e io francamente il periodo storico in questione non è che me lo ricordassi più di tanto forse non l'ho mai non l'ho mai saputo non l'ho mai studiato per cui non essendoci una un approfondimento un'introduzione un redazionale non essendoci assolutamente nulla in questa testata certi passaggi risultano davvero incomprensibili ecco per come la vedo io quindi questo è il secondo punto per cui consiglio la nuova ristampa è più comprensibile il terzo punto per cui io vi consiglio di leggere questa nuova ristampa insomma ovviamente qualora voi foste interessati al personaggio di Dago sono i disegni che a mio avviso sono perfetti i disegni di Gomez sono letteralmente stratosferici guardate che meraviglia di volti di ambientazioni e anche la colorazione io so che questi disegni originalmente erano in bianco e nero anche la colorazione è ben fatta nonostante in alcuni punti come questa sia talmente scura da rendere forse da sacrificare ecco un po' i disegni di Gomez però in linea di massima c'è una colorazione veramente efficace guardate il volto di Dago guardate Dago come viene descritto in maniera stratosferica secondo me da Carlos Gomez riesce a dargli delle delle tali espressioni che sembrano delle fotografie questi disegni sembrano veramente Dago sembra reale non sembra disegnato ma sembra un personaggio reale perché in alcuni punti ha davvero delle delle espressioni guardate qui guardate qui che espressione guardate quest'altra espressione come è è veramente realistica è un qualcosa di incredibile volevo farvi vedere questa bellissima tavola per come la vedo io questa tavola è veramente fantastica questo questo disegno che esalta tutta la virilità del personaggio di Dago e poi questa espressione io rimango veramente senza parole quando osservo i disegni di Gomez secondo me è uno dei migliori disegnatori che io abbia mai avuto il di cui io abbia mai avuto il piacere di leggere nelle tavole perché è un qualcosa di allucinante Gomez secondo me e pensare che questi disegni non sono sono anche piuttosto vecchi ripeto io non so l'anno in cui sono stati eseguiti però sono fantastici nell'ultima parte della storia Dago si imbarca per Panama o Panama come recita il titolo di di questa storia guardate ancora una volta l'espressione incredibile di questo grande personaggio che ha un fascino magnetico Dago non c'è non c'è niente da fare Dago veramente è un personaggio la cui filosofia il cui pensiero esercita davvero un fascino magnetico e parlando dei colori della colorazione secondo me è molto efficace appunto originariamente le tavole di Dago erano in bianco e nero e io non le ho mai viste in bianco e nero per cui può essere che in bianco e nero risaltino ancora di più però io posso dire che il colore non mi dispiace affatto il colore anzi mi attira fortemente secondo me è fatto molto bene è svolto molto bene questo è soltanto il il primo numero che ho letto di questa nuova ristampa però io ho sfogliato qualcosa degli albi che devo ancora leggere e ci sono dei disegni di un veramente magnifici disegni veramente fantastici guardate qui Dago l'espressione il volto il profilo il tratto ma tutto quanto ecco come sono trattati i capelli come sono trattate le ambientazioni qui davvero abbiamo dei disegni veramente delle espressioni che sembrano delle fotografie queste espressioni sono veramente fantastici per cui che cosa dire io vi consiglio in caso non la non la leggiate già questa nuova ristampa di cui inizieremo a parlare in maniera un po' più approfondita a partire da questo numero perché se ho ben capito qui inizia un altro un altro ciclo ecco e quindi spero di potervi dire qualcosa di più approfondito mentre invece appunto su questa storia non potevo veramente quasi dirvi niente perché era già incominciata precedentemente per cui francamente io l'ho letta ma non ci ho capito più di tanto mi sono limitato ad osservare secondo me ad ammirare i secondo me disegni veramente perfetti veramente fantastici detto questo io vi ringrazio per l'ascolto vi mi scuso così per questo video confuso che fondamentalmente non vuole dirvi più di tanto insomma non è che vi abbia dato chissà quali nozioni circa una storia in particolare però io spero che chi non si è mai avvicinato al personaggio in qualche modo ne risulti affascinato da questa nuova ristampa secondo me vale ed è seriamente da prendere in considerazione detto ciò io vi ringrazio per l'ascolto vi auguro un buon proseguimento di giornata e ci ritroviamo a voi piacendo al prossimo video ciao a tutti ciao